Sanzio Bassini, direttore scientifico IFAB. A lei il palco. Grazie per l'invito. Cercherò di condividere un pezzo del nostro futuro. Il nostro futuro inizia 4-5 anni fa, quando Regione Emilia-Romagna decide di destinare l'area dell'ex manufattura tabacchi di Bologna a Polo Tecnologico. Il Polo Tecnologico di Bologna ospiterà quelle che sono le maggiori istituzioni di ricerca, l'Agenzia Italia Meteo e nella fattispecie il sistema di supercalcolo del Centro Meteorologico Intergovernativo, il CNWF, e il supercalcolatore del Cineca. Era indispensabile cercare in un qualche modo di rendere persistente questa azione. E dunque è stata creata sul patrocino di Regione Emilia-Romagna la fondazione IFAB, Fondazione Artificial Intelligence for Human Development, che in un qualche modo raccoglie quelle che sono le interazioni con il sistema delle industrie e l'associazione Big Data, che è formata da quello che è il sistema nazionale della ricerca. Dunque la fondazione in un qualche modo è il punto di riferimento di quello che è l'interazione fra il mondo della ricerca e il mondo della produzione. Tutto ciò in un qualche modo si fonda sulla disponibilità di quello che è un sistema di supercalcolo abilitante, un'infrastruttura di supercalcolo che è ospitata al Cineca. Questa è la roadmap evolutiva. L'Italia da questo punto di vista in realtà è un paese vitale, nel senso che ospitiamo sistemi di supercalcolo che sono stati classificati fra i primi dieci nella cosiddetta top 500, che è la classifica che viene pubblicata ogni sei mesi e che mette in evidenza quali sono i sistemi di supercalcolo più potenti al mondo. Dunque da questo punto di vista l'Italia in realtà è un paese molto vitale che da tempo ha presenza importante. Questa è l'evoluzione del sistema di supercalcolo di Cineca. Verrà ospitato rapidamente il sistema Leonardo, che è uno dei sistemi acquisiti dalla Commissione Europea, quindi è un investimento congiunto fra la Commissione Europea e il Ministero dell'Università della Ricerca Italiana e sarà uno dei sistemi più potenti al mondo. Avrà una potenza nell'ordine di 250 milioni di miliardi di operazioni di virgola mobile al secondo. Questa sarà la potenza di questa macchina e stiamo lavorando per quello che sarà il suo successore, previsto nel 2025-2026, che avrà una potenza di mille milioni di miliardi di operazioni di virgola mobile al secondo. Questa infrastruttura e questo disegno servono in un qualche modo a costituire quella che è la prospettiva di evoluzione e quella che è la possibilità per un'azione che sia di sviluppo, di sviluppo socio-economico e di sviluppo socio-economico sostenibile. Questo è l'obiettivo, questa è la condizione che in un qualche modo è già per certi versi presente e che sta diventando futuro. Ora, il punto è questa enorme quantità economica perché in un qualche modo viene investita, quali sono le motivazioni? Dunque ce ne sono moltissime. Per cercare in un qualche modo di trovare un punto di riferimento ho utilizzato quello che è stato un grant che il Dipartimento dell'Energia, che è il maggior finanziatore di quello che è il sistema di supercalcolo americano, ha attivato nei confronti di un soggetto indipendente. Quindi ho detto, io investo un'enorme quantità economica di soldi, gli Stati Uniti è chiaramente uno dei maggiori player, in un sistema di competizione emulativa a livello globale. Dunque la competizione a questo punto è fra Stati Uniti, Giappone, Cina e Europa, non più Italia. Dicevo prima che il sistema che sarà ospitato presso i Tecnologi di Bologna e gestito dal Cineca è in realtà un sistema che è stato cofinanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero Universitario della Ricerca. Dunque questo multilateralismo in un qualche modo è un punto di equilibrio rispetto a che cosa? Al fatto che in un qualche modo con i sistemi di supercalcolo si possono in un qualche modo fare molte cose importanti, una delle quali per esempio è quella di supportare l'innovazione tecnologica. E questi sono i domini più importanti dal punto di vista di quello che è l'innovazione tecnologica, la medicina di precisione, i sistemi a guida automatica, a auto, droni, la gestione di quelli che sono le frodi, la detezione di quelli che sono le anomalie, lo sviluppo del mercato, l'intelligenza, la cyber security e quelli che sono tutte le gestioni di quelli che sono i dispositivi che pervadono la nostra vita. Quindi il supporto di quello che è l'innovazione tecnologica. Da questo punto di vista ci sono un paio di indicatori, questi sono dati del 2020, quindi diciamo dati assolutamente recenti, ci sono due indicatori molto importanti. Uno è il ritorno di investimento per dollaro, 500 dollari, 507 dollari di ritorno di investimento per ciascun dollaro investito in HPC e il profitto, 47 dollari di profitto o per minore spese o per maggiore profitto. Dunque un elemento che dal punto di vista socio-economico è molto importante e la emulazione competitiva sta diventando appunto un punto di equilibrio fra quello che è il sistema cinese, il sistema degli Stati Uniti, il sistema giustizionese e il sistema europeo. Ora, per rispondere a che cosa? Per rispondere a quelli che sono le challenge socio-economiche del nostro tempo, per dare un senso di quelli che sono tre impatti fondamentali rispetto a quello che è il nostro futuro. Dunque Edison quando ha realizzato la lampadina ha sperimentato 1600 materiali, 1600 materiali diversi per trovare un filamento che in qualche modo potesse costituire la tecnologia per la lampadina. Ed è tutto evidente che al tempo attuale questo sarebbe impossibile da sostenere nei confronti di quelli che sono un certo numero di aspetti cruciali, per esempio la sicurezza del cibo, per esempio la possibilità in un qualche modo di pulire gli oceani di quello che è l'inquinamento, per esempio quello di utilizzare componenti che in un qualche modo siano intrinsecamente ecosostenibili, per esempio quello di sviluppare delle batterie che siano in grado di accumulare l'energia solare e di ritornarla nelle opportunità rispetto ad un equilibrio, rispetto alle varie fonti rinnovabili. Tutto questo può essere fatto soltanto con un sistema di piattaforma per la progettazione di nuovi materiali che in un qualche modo corrisponde a quelle che sono le esigenze del nostro tempo. Da questo punto di vista l'Italia è in un'ottima posizione perché guida il centro di eccellenza nella progettazione di nuovi materiali dello scenario europeo, che è costituito da quelli che sono i partner che ho riportato in questa slide e il progetto è a guida italiana. Questo è uno dei maggiori impatti di riferimento. Il secondo è il cambiamento del clima. Le due figure proposte rappresentano quelli che sono due schemi ormai abbastanza famosi. L'incremento della temperatura del pianeta è uno fra gli n. mila possibili impatti negativi, per esempio, che si riferisce a quello che è il nostro territorio. 6-7 metri di innalzamento del livello del mare rispetto a quello che è l'eventuale impatto dovuto al scioglimento dei ghiacci fa sì che in un qualche modo la pianura padana diventi una palude. Ritorio adesso è una palude. La spiaggia si sposta alle colline di Bologna. Questo è, come dire, lo scenario in un qualche modo previsto. Per fronteggiare questo tipo di condizione estrema, Europa ha realizzato un sistema di satelliti che osservano il sistema terrestre e che producono un'enorme quantità di dati di monitoraggio. E associato al sistema di monitoraggio ambientale del sistema terrestre c'è il progetto Frankship denominato Destination Earth, che in un qualche modo serve a rendere evidente quali sono gli impatti delle decisioni che vengono assunte rispetto alla mitigazione del cambiamento del clima che ha gli effetti, per esempio, che richiamavo prima. Questa combinazione è una combinazione che evidentemente consente di fronteggiare le condizioni estreme che il cambiamento climatico ci sta proponendo. Ovviamente al centro di questo è l'elaborazione dei dati mediante sistemi di supercalcolo. Il terzo aspetto che mi fa piacere richiamare riguarda la medicina di precisione, dunque la sostenibilità dal punto di vista di quello che è la progettazione dei materiali, la mitigazione e l'interruzione di quello che è il processo relativo al cambiamento climatico, la salute delle persone. Relativamente a quello che è la salute delle persone, la medicina di precisione è il prossimo step. Tutto si fonda sulla disponibilità di quelli che sono il sequenziamento del genoma fino al punto di poter arrivare a quello che è il livello della percezione di quelli che sono i poliformismi piuttosto che le varianti, uno dei termini che in questi giorni è particolarmente di moda. Dunque la risposta a quello che è una situazione patologica da parte delle persone è una risposta che dipende da quelle che sono le condizioni personali e le condizioni ambientali. Non c'è una risposta determinata. C'è una risposta che è personale. Così come d'altra parte la reazione a quello che è la terapia è una risposta che viene in questo momento agita in termini medi. Ma se la reazione personale e se le condizioni ambientali non sono quelli dei termini medi la risposta terapeutica non ha effetto ancora una volta in questi giorni. Se ne parla continuamente. Dunque occorre in un qualche modo essere in grado di poter combinare quella che è la personalizzazione della caratterizzazione della patologia e della risposta alla patologia di Ciascoduno con la terapia. Come può essere fatto? Avendo a disposizione la sequenziatura continua di quelli che sono il nostro genoma e le nostre varianti in funzione di quelli che sono le nostre condizioni di vita e le nostre condizioni ambientali. Ora, questa cosa era una cosa che fino a poco tempo fa era assolutamente impossibile perché il costo per il sequenziamento era insostenibile. Però quello che capita è che a questo punto il costo per il sequenziamento sta calando esponenzialmente. Il primo sequenziamento che è stato fatto è costato 100 milioni di dollari. Attualmente è possibile fare un sequenziamento con 1000 dollari. È pensabile che nel giro di 18 mesi, 24 mesi, un sequenziamento possa costare 100 dollari o 100 euro. È pensabile che nel giro di 3-4 anni un sequenziamento possa costare 10 euro. Con questi numeri è possibile caratterizzare quello che è la risposta personale alla patologia ed è possibile caratterizzare e programmare e progettare quello che è la terapia personalizzata per ciascuno di noi. Questo è il terzo impatto sostanziale che in un qualche modo ci presenta con la disponibilità del supercalcolo. E questo è il supporto che in qualche modo questo sistema Tecnopolo di Bologna, l'attività della fondazione, il Cineca, stanno portando avanti a livello europeo e internazionale. Grazie.